Signore, signore, lei è venuta a piedi qui dal palazzo per cantare queste menzioni Ah no, non c'è il testo, ma il testo non c'è Qualcuno mi dà un telefonino? Allora, qui abbiamo la Gianna, fatemi un applauso Come tu? Come Gianna? Gianna? Un applauso alla Gianna, questa è che è da Brasile, eh? Allora, volevo fare un applauso ragazzi dell'Ardro Caffè Che noi siamo qui a mangiare, a sua area, a divertirci e loro si fanno il culo Un applauso ragazzi dell'Ardro Caffè Allora, un applauso ragazzi dell'Ardro Caffè Un applauso, un applauso, un applauso ai nostri musicisti Maestro, direttore d'orchestra Maestro Giacomo Pelanti, eccolo qui Alla batteria Simo Alla batteria Simo Al tasto elettrico in Cecca Luca, Cecca, no Vanni e Suomi e Rispipoli Tutti i lati italisti e rosa E Vigo, Giulio, Andrea, tutti Io no Io Giusto Alla batteria Mazzini Allora, signore e signori, ci siamo? Facciamo, signore e signori, l'ultimo brano Il brano Heavy-Menu Per eccellenza Voglio tutti i partiti Vi accendiate le vostre Avetevi su Con i mandini Mano sinistra Con i mandini I mandi I mandi I mandi Giusto Alla batteria Mazzini I mandi I mandi I mandi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti